Oggi, grazie al progetto fatto in casa, realizzato da Dolce & Gabbana insieme a Humanitas per sopportare la lotta contro il Covid-19, vi farò vedere come ho imparato a cucire grazie all'aiuto delle mie nonne. Quando viene a finire la parte ci vuole la precisione, ma non fa cucire, ci vuole la precisione. Puoi cucire la vita di più? Sì, sì, vai! Sì, 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 sì.